L'Italia, attraverso il governo Draghi, ha recentemente riformato la giustizia penale. C'è la modifica della prescrizione, l'introduzione di un nuovo istituto che si chiama l'improcedibilità. Dalla riforma però sono esclusi alcune tipologie di gravi reati, ma non i reati ambientali. Dunque i reati ambientali rischiano con questa riforma l'estinzione del processo, dopo la sua missione e dopo aver visto le criticità nel Paese. Lei non ravvede in questo un problema, una sottovalutazione del problema ambientale in Italia. L'obiettivo di voler velocizzare in qualche modo i procedimenti penali è davvero utile ed importante anche per garantire proprio l'accesso alla giustizia. E quindi il fatto di accorciare i tempi di prescrizione anche in relazione ai reati ambientali può presentare delle problematiche proprio perché le indagini che devono essere svolte possono essere molto complesse, possono richiedere la ricerca di prove molto tecniche e quindi con i tempi più brevi si rischia appunto la prescrizione e quindi questa eventuale impunità che naturalmente non è accettabile. Il secondo punto che volevo chiarire riguarda il fatto che questo trasmette anche il messaggio sbagliato perché in fondo stiamo parlando di reati davvero gravi, è una situazione molto seria e quindi è sempre più via via che andremo avanti nel tempo insomma ci renderemo conto che noi dobbiamo tutelare, dobbiamo proteggere il nostro ambiente anche per poter salvaguardare proprio i diritti umani e i diritti delle future generazioni.